bene ciao a tutti ben ritrovati per questa nuova diretta in compagnia dell'amico Eugenio Ercolani ciao Eugenio grazie per avermi invitato ormai è una seconda casa e ormai sì infatti stavo dicendo sei di casa ormai quindi infatti ormai non ti presento nemmeno più partiamo direttamente insieme perché è sempre un piacere averti con me per questa nuova diretta chiaramente non potevamo non fare una diretta dedicata al grande Ruggero Deodato che ci ha lasciati da poco ehm questa è la prima diretta del duemila e ventitré eh beh sì infatti mi hai mi hai anticipato questa è la prima diretta duemila e ventitré eh ce ne saranno un bel po' quest'anno molto interessanti e appunto iniziamo questa prima questa prima live eh ricordando Ruggero Deodato Ruggero che tu l'hai conosciuto perché comunque gli hai fatto anche varie interviste durante durante questi anni giusto? Come no? Eh guarda proprio in questi giorni ho fatto questo investimento veramente un po' spropositato di hard disk quindi sto in una eh in una realtà il mio studio è praticamente un set di un film cyberpunk sono cavi ovunque e e sto riversando varie interviste fatte negli anni svariati tera di di roba e mh e mi mi è capitata una cartella che tra l'altro avevo dimenticato delle primissime interviste a a Ruggero e che mi portano a quota credo ventidue ventitré interviste eh tra tra video audio e poi no ma io poi Ruggero lo me lo sono portato due volte a Londra o meglio in Gran Bretagna una volta a Londra e una volta a Manchester e per per delle convention quindi abbiamo avuto l'avventura di condividere insomma ore e ore di viaggio e spostamenti hotel quindi ho avuto modo sì devo dire ho avuto modo effettivamente di conoscerlo abbastanza bene sai la morte di Ruggero sai ormai sono sono anni che stanno morendo tantissime figure importanti legate al cinema italiano to cure alcune a prescindere poi da dalle dalle singole carriere dalle filmografie dal valore più o meno oggettivo delle opere dei film ehm alcuni personaggi per la loro carica iconica per eh per essere per essere diventati come dire rappresentativi eh di un certa cinematografia di un genere la loro morte assume assume un un valore aggiunto rende tutto ancora più triste e e c'è un prima e un dopo eh sicuramente Umberto Lenzi Umberto Lenzi è stato un regista che quando quando è quando è deciduto quando è morto eh credo nel duemiladiciassette potrei forse forse mi sbaglio però insomma credo credo fosse il duemiladiciassette quando è morto Umberto sicuramente è è morto un simbolo è morto è morto qualcuna bandiera è una persona che come Ruggero perché infatti li sto sovrapponendo perché entrambi erano riusciti in qualche modo anche a monetizzare ma soprattutto a a polarizzare l'attenzione su di loro dopo questa rivalutazione chiamiamola tarantiniana insomma ma che in realtà a radici è ancora più più vecchie perché insomma siamo tanti critici storici e realtà editoriali a partire già dalla fine degli anni ottanta che cercavano di riscoprire e gettare luce su un su un certo cinema quindi si vedevano molto andavano ai festival andavano alle convention si facevano intervistare non solo da me ma tantissimi altri ehm anche lo sfondo ehm no le loro case in qualche modo erano entrate nell'immaginario io quando per esempio morì Umberto eh postai su sui miei canali social un'immagine del suo studio che una parete del del suo studio e di solito faceva da sfondo alle interviste senza di lui proprio perché ehm diciamo che il loro mondo era diventato iconico il loro modo di parlare il la loro ritualità il loro bestiario erano diventate vere proprie mini icone e Ruggero Ruggero lo era era e lui lo era ehm era sì recentemente leggo sì è morto Eugenio Marten sì regista regista spagnolo di di grande valore sì a ne stanno morendo tantissimi insomma veramente ehm io per esempio adesso ti paghiamo un attimo il mio primo libro Dark in the Italian Screen sono intervistati vari registi eh un libro pubblicato negli Stati Uniti qualche anno fa eh 2019 ehm e erano ovviamente quando iniziai a quel libro erano chiaramente tutti vivi adesso abbiamo perso Alberto De Martino Giorgio Capitani Mario Cagliano eh Giulio Petroni e adesso anche 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 Franco Rossetti e adesso anche Ruggero quindi sì veramente purtroppo c'è questo chiamiamolo eh riciclo questo questo ciclo della vita insomma si si presenta di una tante ehm e niente quindi Ruggero Ruggero era un'icona lui ne era ben consapevole ehm però nel caso di eh Ruggero c'è qualcosa di chiamiamolo anche anomalo rispetto ai suoi tanti colleghi ehm altrettanto famosi perché poi insomma per fortuna ne abbiamo ancora tanti vivi Sergio Martino e Enzo G. Castellari e insomma tanti altri e mh Ruggero ha creato qualcosa che è Cannibal Holocaust in qualche modo gli è sfuggito di mano cioè Cannibal Holocaust ha perforato la la membrana che lo racchiudeva del cinema popolare italiano ehm e è diventato qualcosa di più grande più grande di 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 Ruggero più grande del del genere e del sottogenere di cui faceva parte e e questo lo si può vedere dalla reazione dei media all'estero eh io personalmente posso posso portare come esempio il fatto che a dicembre fui contattato a sorpresa da un giornalista del New York Times che mi chiedeva delle dichiarazioni su Ruggero eh che sono state utilizzate proprio per il lungo e devo dire anche ben articolato eh necrologio del New York Times eh io mi trovavo a Londra eh tra l'altro ero appena uscito da da meno di 24 ore dalla sala operatoria perché Londra mi sono operato di appendicità acuta quando scoperto non c'è stato molto bene sì no eh esatto sono sì ho avuto questa disavventura londinese e comunque eh appena uscii poco dopo essere uscito dalla sala operatoria ho scoperto della 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 morte di Ruggero e da lì a poco sono e hanno iniziato a spuntare articoli eh o servizi della BBC Guardian Sunday Times un po' dopo cioè veramente non non questa reazione ovviamente prima di tutto è legata a Cannibal Holocaust cioè non è legata se Ruggero non avesse diretto quel film se quel film non fosse nella sua filmografia non avrebbe ricevuto questa attenzione e perché comunque scusa se ti interrompo chiaramente quando si parla di Ruggero del Dato uno eh la prima cosa a cui pensa il film Cannibal Holocaust però Ruggero del Dato comunque ha spaziato anche vari altri generi piuttosto anche di qualità come la casa sperduta nel parco che è sempre comunque un horror però ad esempio ricordo anche il film poliziesco eh poliziotti si nasce uomini no aspetta un uomini si nasce poi in inverto sempre il titolo comunque ha diretto anche tantissimi altri titoli anche fuori dal genere cannibalico diciamo sì sì cani ehm cannibal holocaust eh è qualcosa è qualcosa che è apparso che è apparsa nella carriera di di Ruggero e che gli ha rivoluzionato la vita da tutti i punti di vista ma al di là del tutte le controversie il processo eh tutta l'attenzione mediatica eh al al momento del dell'uscita nelle sale al di là di quel di quel momento di quel frangente specifico ha creato qualcosa che ha gettato ombra su tutta la la filmo tutto il resto della sua filmografia eh perché magari chi è un cinefilo che è un appassionato di cinema di genere italiano non si rende conto di quanto pienamente di quanto cannibal holocaust sia tanto più famoso di qualsiasi altra cosa realizzata da Ruggero ma anche da tanti altri registi ehm eh cannibal holocaust se esci per strada e fermi le persone ma anche giovani l'avranno sentito se li fai vedere la la locandina con quell'immagine iconica eh del del cannibale sbracciato o ancora più iconico il palo eh in cui c'è la ragazzina imparata ehm tutti conoscono poi magari il film non l'hanno visto eh o magari l'hanno visto ma lo 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 sottovalutano l'importanza che che ha avuto il film però tutti conoscono quel film è entrato nelle maglie dell'immaginario collettivo come veramente eh pochi altri horror l'esorcista non so eh lo squalo cioè di questo stiamo parlando cioè di un film che veramente eh è diventato enorme eh che può vantare anche di una bella colonna sonora eh che ha una colonna sonora stupenda composta Rizzo Ortolani eh che che tra l'altro diciamo aggiunge un legame forse uno dei dei più suggestivi tra Cannibal Holocaust e eh il cinema di Gualtiero Iacopetti e e Franco e Franco Prosperi eh cioè i mondo movies per cui sì no Cannibal Holocaust è molto è molto affascinante lo si può collocare eh a un incoroscio tra il mondo movie eh il cinema il cinema avventuroso eh di stampo americano ehm però allo stesso tempo c'è questo ingranaggio incredibile eh che è il film nel film eh adesso diremmo no found footage ma all'epoca questo termine l'anglofono non esisteva ehm eh mi ludo ma so con tutti voi comunque ci tengo un attimo a precisare che eh specificalo tu che il film è già uscito è già uscito Cannibal Holocaust è presente sul mercato in quattro K eh dall'Ide8 Films eh senza italiano e e tra l'altro quest'anno anche se non c'è non c'è una data d'uscita eh negli Stati Uniti eh la Grindhouse Releasing ehm farà uscire il film anche eh in un'edizione in quattro K e quindi e quindi sì insomma eh Cannibal Holocaust ha poi influenzato il cinema americano ehm ma già a partire dagli anni novanta quindi anni molto prima eh o comunque svariati anni prima del del Blair Witch Project ritroviamo eh Cannibal Holocaust a influenzare a solliticare a dare un input a tutta una cinematografia underground eh indipendente americana da The Last Broadcast che è tra l'altro un bel un bel eh found footage diciamo è uscito quasi in contemporanea con The Blair Witch Project poco prima esatto eh ma già e questo lo dichiarano anche i registi già a partire alla fine degli anni ottante prima anni novanta c'è tutta una serie di prodotti tra cui anche eh un eh Alien Abduction che che prendono ispirazione da da Cannibal Holocaust per cui e poi ovviamente eh da da anche in un cinema ancora più mainstream rispetto a Blair Witch ritroviamo richiami in 15 minuti John Hersfield un film con Robert De Niro Edward Burns ehm eh ma poi per non parlare della musica io parlo adesso di aspetti elementi narrativi snodi narrativi ma se poi parliamo della musica di Ortolani quella la si trova in tantissime serie eh film insomma poi poi vabbè poi c'è tutto tutto Tarantino, Eli Roth, Rodriguez e lì troviamo troviamo Ruggero in abbondanza quindi il cinema di Ruggero per cui Cannibal Holocaust è qualcosa di di enorme è qualcosa che continuo a affascinare eh in parte perché è un prodotto che non potrebbe esistere adesso e non mi riferisco solo agli animali mi preferisco mi mi riferisco a un codice etico e a una moralità che adesso non 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 è in sintonia con i tempi con dei meccanismi narrativi che non funzionerebbero altrettanto bene adesso ci sono tanti aspetti che fanno sì che Cannibal Holocaust sia unico poteva nascere in quel momento in quel momento è nato e poi mai più quindi Cannibal Holocaust continua a affascinare e e la morte di Ruggero assume un valore simbolico ancora più grande poi come dicevi tu Ruggero ha spaziato tantissimo a parte ricordiamo che è stato un regista è stato un regista pubblicitario molto importante da la pubblicità da Levis a parte lui faceva i caroselli faceva i caroselli ne ha fatti tanti a cavallo tra gli anni sessanta e settanta ma la pubblicità è un fil rouge di tutta la sua carriera registica e negli anni novanta dicevo ha realizzato le pubblicità della Levis e la Samsonite ehm del del ehm Alpitour eh ai 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 Alpitour e tutta quella pubblicità lì famosa è quella di Ruggero eh ne ha veramente lavorato tanto ehm poi lui ha sempre raccontato ehm ha sempre raccontato il voler di così bisogna di diventare un regista di commedie effettivamente i primi film togliendo fenomenale il tesoro di Tutankhamun o Zenabel ehm i primi film sono delle commedie in primis il western i quattro del paternoster eh e poi il precedente in poco prima eh donne botte bersagliere in vacanza sulla costa smeralda per cui inizia con la commedia poi si rende conto che almeno lui la racconta lui perlomeno la racconta così la raccontava così che ehm nelle commedie con diciamo eh il potere lo detiene il comico eh lui invece eh voleva voleva essere come dire al comando di tutto eh e quindi si sposta su altri liti eh dopo un lungo periodo perché i quattro del paternoster fu un grosso flop eh per una serie di ragioni però fu un flop lui si prende una lunga pausa e poi quando riprenderà eh pausa dal cinema ma continuerà a dirigere appunto Caroselli ehm e inizierà la stagione più fortunata prima con un data di piacere con l'all'epoca compagna mia moglie eh Silvia Dionisio poi si muore e poi l'ultimo mondo cannibale ehm che è molto bello l'ultimo mondo cannibale ehm un gran bel film forse per certi versi anche superiore al al cannibal holocaust però cannibal holocaust si allineano i pianeti le stelle cioè crea qualcosa di di veramente di di unico eh che come spesso capita ad alcuni registi perché sono tanti i registi a trovarsi in questa a crearsi involontariamente una gabbia dorata lo imprigionerà perché quel quell'etichetta il regista di cannibal holocaust quel bollino lo seguirà o lo perseguiterà per per tutta la resto della carriera ehm anche e detterà molte delle scelte quindi passare a un cinema più leggero magari horror ma più addomesticato ehm tornare invece a un cinema più brutale ehm toccare certi temi eh per esempio tutto il discorso della musica molto dolce con delle immagini cruente cioè questo lo tutte queste scelte sia registiche eh che che non eh partono da cannibal holocaust anche se poi apri una parentesi c'era già stato un accenno quindi evidentemente di quel connubio musicale quel connubio agrodolce musicale in uomini si nasce Poliziotti si muore per l'appunto dove c'è questa ballata molto dolce su immagini eh violente quindi evidentemente quella era già un'idea che eh Ruggero stava sviluppando però ecco sì cannibal holocaust plasmerà tutto il resto della sua carriera. Ti posso fare una domanda su un altro film ehm di cui si parla molto poco quando si menzionano i vari film della sua filmografia che concorda a Fem 79 che ha anche un bel cast eppure non ha avuto un grande successo giusto? Eh ma all'epoca il film si vendette molto bene eh nel mercato estero ehm non no è stato un discreto successo il non è un film che mi dirai non è un film che è rimasto che è rimasto ecco bravo che è rimasto in immaginario non è rimasto ma come sono rimasti pochi in generale i lacrima movie perché quel film si inseriva eh basti pensare un esempio ancora eh ancora ancora più rappresentativo sono i film di di eh Sergio Martino la bellissima estate un altro lacrima movie completamente dimenticato e dimenticato da Dio e dagli uomini ehm ma anche tutto sommato anche l'ultima neve di primavera il lacrima movie per antoromasia del del cinema italiano sì sicuramente si lo si ricorda sicuramente più di gli altri film ehm analoghi però anche quello non è un film come dire ehm è nell'aria adesso è un film abbastanza ehm abbastanza dimenticato perché proprio il lacrima movie che che è un po' così eh risulta evidentemente al pubblico attuale risulta datato come sottogenere però concorda per 79 è sicuramente uno dei ehm è uno dei film di maggior di maggior valore io non sono particolarmente legato a quel filone però sicuramente il film di rodato è tra i migliori esempi ehm ah ma pardon tu dici vi concorda per 79 io stavo parlando dell'ultima sapore dell'aria no 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 concorda per 79 ho sovrapposto quei due film ehm no l'ultimo sapore dell'aria va bene tutto quello che ho detto riguarda quel film lì no concorda per 79 pure quello non fu un un ciao moreno eh non fu un un flop quello non è rimasto secondo me beh diciamo eh gli effetti quel film nasce naturalmente da tutta la è un film di di imitazione di tutta la saga di airport no è iniziato con con Bert Lancaster e così via e forse quello gli effetti speciali ha detto anche di Ruggero ehm che non era esattamente aveva un' autocritica particolarmente sviluppata Ruggero diciamoci la verità eh sulla personalità di Ruggero dovremmo a un certo punto parlare perché molta della sua fama e della sua capacità di essere una figura polarizzante determinata proprio dal dal dalla sua popolare dal dal suo modo di essere dal suo dal suo carattere concorda per 79 sì è un film abbastanza di abbastanza dimenticato ehm anche se meno rispetto all'ultimo sapore dell'aria per esempio che quello è decisamente decisamente più ancora più di nicchia qui arrivano un sacco di sì è difficile star dietro a tutti i messaggi cerco di metterli comunque in sovraimpressione però capirete che è difficile parlare di tutto e comunque ringrazio tutte le persone che si sono collegate che si stanno collegando tuttora allora no scusami ah dunque i frati rossi non c'entra niente con Ruggero però apre e chiudo questa parenti i frati rossi io non sono non sono per niente convinto che i frati rossi non non venderebbe in blu ray secondo me all'estero venderebbe come i frati rossi che ricordiamo non è un film di fulci ma un film di gianni martucci e sottolineo questo aspetto perché all'epoca si giocava molto su questa ambiguità sul sul discorso non non fa parte il lucio fulci presenta un film a parte però il nome di fulci fu usato per cercare insomma di attirare il nome che ancora aveva un valore sul mercato però il film di martucci venderebbe perché c'è un grande interesse in questo a parte che un film è un film horror italiano degli anni 80 e negli stati uniti queste tre co questi tre elementi sono di grande interesse al cinema horror specificatamente italiano specificatamente gli anni 80 e e poi c'è questo come dire questo feticismo nei confronti del sottobosco dell'horror italiano del cinema del cinema come dire ma anche scalcinato basti pensare blood delirium delirio di sangue di bergonzelli io ho realizzato i contenuti speciali per il blu ray americano ha venduto benissimo e tutto sommato insomma delirio di sangue e quindi martucci insomma stiamo e che stavamo dicendo no intanto comunque anche trend lane va beh parla di vari film che tutt'oggi arrivano soltanto in dvd ne ha fatto un esempio adesso di nido di vipere e ci sono tantissimi film ancora di ruggero deodato che non si trovano in alta definizione sì in italia in italia ma già questo questo esempio che ho fatto no cioè o meglio il fatto che io abbia sottolineato come i media hanno reagito alla morte di ruggero negli stati uniti e in gran bretagna e qui qui in italia c'è stato un trafiletto sulla repubblica poi vabbè lasciamo perdere le riviste specializzate i riviste di settore i siti le web scene specializzate nel cinema horror o nel cinema italiano quello è un discorso a parte ma mainstream c'è stato un paio di trafiletti e fine infine cioè The Guardian sì non sul cartaceo ma comunque nel online ha pubblicato un lungo necrologio e New York Times che forse la la una delle testate più famose al mondo ha dedicato un lunghissimo articolo a Ruggero e in particolar modo a Cannibal Holocaust per cui questo è rappresentativo eh anzi secondo me adesso in mercati un video esteri eh cavalcheranno la morte di Ruggero faranno uscire il più possibile eh in Italia no ma insomma ne dubito non c'è solo se dovesse resuscitare magari non c'è questa visione eh come dire di 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 salvaguardare la memoria di un regista di ma io basti pensare alla la morte di Gianni Minervini Gianni Minervini è stato un produttore prima eh insomma ha fatto una gavetta molto lunga in produzione inizia con Giulio Petroni come direttore direttore di produzione produttore esecutivo e poi è diventato un produttore tra i più importanti del nostro cinema ha prodotto tantissimo tantissimi film di pupi di pupiavati ha prodotto Mediterraneo di di ehm di Salvatores che ha vinto miglior film straniero agli Academy Awards e quando è morto che cosa saranno quattro cinque anni fa non ne ha parlato nessuno 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 proprio completamente una morte ignorata eh non ricordo neanche un trafiletto sicuramente qualcuno avrà scritto qualcosa ma insomma veramente non degno di nota per cui per cui sì non 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 c'è non c'è questo questa tendenza a valorizzare il bagaglio culturale cinematografico ora stiamo parlando di Ruggiero Deodato ma questo vale per tantissimi altri artisti che svalorizziamo un pochino cioè voglio fare un esempio all'estero hanno fatto uscire vari documentari su Deodato come Searching for Cannibal l'Holocaust è una bellissima anche edizione eh media book rimbombato qua non so come si dice ovattato scusate e anche Deodato l'Holocaust di guerra insomma e qui è già difficile avere i film in blu-ray figure di documentari sì sì eh no è un è un altro mercato un altro mondo c'è poco da fare non è così è un grande peccato a livello a livello umano cosa cosa ci puoi dire di Ruggiero ma allora per quanto riguarda allora rispetto io sono convinto del fatto che lui beh lui ha avuto partiamo dal rapporto che lui aveva con il suo film più celebre più celebre ehm eh sì che io sappia in blu-ray oddio io non sapevo neanche del blu-ray di The Barbarians eh Cannibal Holocaust e La Casa Sperduta nel Parco sono usciti in blu-ray ma sono edizioni cinecalci sì ma improponibili adesso sia a livello di master che a livello di extra sono sono cose che potevano funzionare all'epoca dell'uscita insomma ormai parecchio tempo fa ehm e che che stavo dicendo sì che il suo rapporto con il suo film più celebre secondo beh lui aveva un rapporto d'amore e d'odio sempre con Cannibal Holocaust e ha iniziato come odio come risentimento e poi diventato amore negli anni anzi nei decenni eh però io sono convinto del fatto che Ruggero tutto un cuor suo fino in fondo non riusciva a dare una ragione a darsi una ragione eh di questo enorme successo di questo di questo fenomeno che aveva creato eh e ci ha litigato con la sua con la sua opera ehm ci ha litigato ci ha discusso ha cercato di intellettualizzare Cannibal Holocaust eh ha cercato poi prima ancora di sminuirlo cioè ha il suo rapporto con il suo film è molto complesso non è un rapporto eh come dire lineare come come lo è stato per altri film ehm per esempio come come lo era il rapporto tra Umberto Lenzi i suoi cannibalici eh che insomma è molto tutto molto conseguenziale Ruggero aveva questo rapporto insomma molto particolare con 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 Cannibal Holocaust e nell'ultima intervista che io gli gli feci ehm alla domanda come ti cosa provi all'idea che tu verrai per sempre dopo la tua morte ricordato per Cannibal Holocaust lui si è entristito e ha detto ha detto sarà così come dici tu perché è evidente che sarà così ma vorrei non vorrei che lo fosse perché ho cercato di fare tanto ho cercato di eh cambiare o in qualche modo eh scardinare certi codici linguistici dell'immagine del cinema della pubblicità e vorrei perlomeno essere ricordato anche per quello però sarò 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 per sempre messio Cannibal sarò per sempre il regista del Cannibal Holocaust ma questo non sono io eh quindi nonostante il grande amore eh perché gli ha portato anche molta fortuna molta attenzione ha saputo monetizzare sul sul sulla crescente eh fenomenologia di Cannibal Holocaust nonostante questo verso la fine aveva comunque una sorta di risentimento nei confronti di quel successo quindi lui non ha e secondo me non ha mai capito che cos'era di Cannibal Holocaust che funzionava ehm sapeva di aver fatto un buon film sapeva che gli ingredienti funzionavano ma la verità è che Cannibal Holocaust suscita un ehm una reazione che è dettata da da tanti fattori ehm molto particolari eh non è la violenza l'attrattiva ehm perché sarebbe sminuente non non sarebbe non giustificherebbe il successo è ehm è quella musica è quella fotografia di Sergio D'Offizzi eh è questa forte carica di malinconia eh è la sceneggiatura di Clerici che poi questo ecco questa era una cosa che Ruggero io una volta ovviamente poi prendendomi tutti gli insulti del caso gli rimproverai una volta e lui ha sempre sminuito molto eh l'apporto di Gianfranco Clerici dello sceneggiatore e insomma si sa chi ha visto chi ha ha letto ho visto intervista a Ruggero sa che lui ha sempre parlato no di uno scalettone non c'era una vera e propria sceneggiatura Clerici ebbe questa grande intuizione che poi io presi sviluppai per conto mio non è proprio così perché se uno torna indietro e legge i figli della luna che è il titolo originale della sceneggiatura dei Clerici poi cambiata poi il titolo cambiò in Cannibal Holocaust ma non fu una decisione né di Clerici né di Teodato ma dei distributori esteri se uno legge i figli della luna è tutto lì il film è lì eh Clerici era è stato un una figura portante di quel film non è stato semplicemente uno che ha avuto un'intuizione ehm e Ruggero la personalità di Ruggero Ruggero è difficile da incapsulare una definizione eh come dire preconfezionata era un uomo problematico eh un uomo senza filtri che diceva diceva spesso cose che non avrebbe dovuto dire ehm è un uomo era un grande paraculo eh perché era uno che gli si perdonava di tutto io io lo lo invidio lo invidiavo da un certo punto di vista perché Ruggero diceva delle cose terrificanti eh però aveva questo modo di fare che portava a perdonarlo ehm cioè se io e te o chiunque chiunque altro eh dicessimo mai le cose che diceva lui sulle donne sul mondo ci permettessimo di fare delle battute come quelle che faceva Ruggero eh verremmo in palati come in Cannibal Holocaust e Ruggero invece cioè ci ridevi sopra e dici vabbè ma è Ruggero è fatto così eh quindi sì eh era era un era un paraculo ehm era era un uomo non era un uomo colto diciamoci la verità Ruggero non era un uomo colto eh però era un 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 regista e un uomo che aveva una grandissima intuizione cioè lui aveva l'istinto di pancia che è qualcosa che la cultura e i libri non ti danno o ce l'hai o non ce l'hai lui ce l'aveva sapeva raccontare una storia sapeva cosa quali erano gli ingredienti per raccontare una storia cioè Ruggero in questo aveva un una grande predisposizione per il cinema e era un uomo molto istintivo e lo era anche con nella vita ehm sentiva ehm non era un non era un buon narratore di se stesso perché non sapeva bene spiegare le dinamiche ehm le sue dinamiche comportamentali non sapeva spiegarti le logiche dietro a certe scelte filmiche però funzionavano queste scelte queste queste sue ehm messe insieme funzionavano cioè lui riusciva a captare qualcosa in questo sì era un uomo molto intuitivo eh era un uomo talmente intuitivo che sapeva anche ehm sapeva anche cogliere le debolezze altrui eh i punti deboli era un uomo che si divertiva a colpire lì dove poteva far male o dove poteva dar fastidio se sapeva se scopriva il tallone d'Achille di qualcuno magari non gli sparava una freccia però minacciava di sparare una freccia a a quel tallone cioè lui amava mh ehm amava come dire dar fastidio dar fastidio e sapeva farlo perché poi faceva un passo in avanti uno indietro e ripeto gli si perdonava tutto eh era un uomo che aveva un grande ecco il suo tallone d'Achille erano le donne eh non lo potevi lasciare un attimo che già stava inseguendo qualche ragazza ehm mi ricordo ai festival a Londra a Manchester era era un cane sciolto cioè non non poi ogni tanto gli sfuggiva un po' di mano la situazione ehm perché non tutti sanno gestire ehm sapevano gestire Ruggero Ruggero non era uno facile da gestire era eh appunto era uno che si ribellava a chi cercava di incasellarlo e a condurlo ehm insomma era era uno litigioso però alla fine faceva la battuta ehm insomma era infatti sui set lui era uno che urlava tanto urlava però eh mentre per dire Umberto Lenzi era uno che poteva buttarla sul personale poteva essere molto anche cattivo delle volte abrasivo Ruggero poi con una eh con una battuta smontava tutto quel casino che aveva creato per cui era poi era era ecco un'altra cosa era un viziato Ruggero era molto viziato eh molto egocentrico però anche molto consapevole di sé per esempio lui era un pariolino ora chi chi non è di Roma magari non sa bene cosa cosa implica questo termine cosa vuol dire essere pariolino eh allora essere pariolino vuol dire che vieni da Roma Nord eh in particolar modo dalla zona Parioli però in realtà ormai il il termine può essere adottato anche per chi non viene specificatamente dai Parioli eh Ruggero però eh vabbè lui non è nato eh specificatamente però è cresciuto lui è nato a potenza però lui è cresciuto ehm eh è rimasto per tutta la vita in zona Parioli era un pariolino a tutti gli effetti eh il pariolino è colui che nelle nell'ostentazione del benessere economico trova una gratificazione personale e in questo c'era Ruggero cioè Ruggero era uno a cui piaceva la bella vita piaceva ostentare anche un uno stile di vita era un era un uomo viziato viziato e pariolino però consapevole cioè lui si autodefiniva pariolino per esempio delle volte o l'humus eh da cui lui nasce o eh lo definiva tale che è raro chi chi non è di Roma forse non lo sa cioè un pariolino è difficile che come dire abbia questo livello di consapevolezza e definisca pariolino o perlomeno se viene accusato di esserlo e di avere un certo tipo di atteggiamento di solito lo ripudia invece lui ci giocava con questo fatto e poi era un uomo per certi versi molto semplice ehm per altri versi complicato eh contraddittorio come del resto la sua filmografia lui lui ha sempre detestato l'horror eppure è diventato un icona horror ehm era un uomo come dire che a cui piaceva la bella vita e il suo i suoi film più famosi sono estremamente cinici non mi riferisco solo a cannibalologa ma anche alla casa speduta nel parco ondata di piacere o o ehm gli uomini si nasce polizotti si muore per cui eh era un uomo contraddittorio ah leggevo un commento cortice mortale mi pare si rimettiamo la domanda eccola qua di Nicolas vai allora eh long runner long runner long runner è un film eh che Ruggero non voleva fare non voleva fare perché mh diceva è tutto sommato è difficile dargli torto che la sceneggiatura era poca cosa eh soprattutto eh inizialmente era un po' dubbioso rispetto al produttore eh il film è eh prodotto da Ovidio Gia Sonitis eh il delegato di produzione diciamo il produttore esecutivo quello che effettivamente stava sul set però era Maurizio Maggi non a Sonitis che visitò molto poco il set eh è un film che fu messo in cantiere eh non non si furono girati back to back però i due progetti nascono simultaneamente eh da una parte long runner dall'altro Iron Warrior di Alfonso Brescia eh però nel caso di Iron Warrior ehm a Sonitis ha avuto un ruolo molto più importante perché poi lui effettivamente è colui è è la 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 persona che ha diretto il film poi eh prese le redini dopo Brescia eh nel caso invece di Long Runner il regista è rimasto eh Ruggero dall'inizio alla fine lui era molto dubbioso se accettare questo film o meno perché a Sonitis come dire ti arrivava con una reputazione che non era proprio rassicurante uno che che come dire ehm antagonizzava i registi eh è un eh uno che licenziava così cioè ti mandava a fare in culo in un attimo eh però dopo raccontato da Ruggero dopo averci pensato eh fu proprio questo aspetto a convincerlo cioè voglio sopravvivere a a Sonitis voglio dimostrare che si può fare un film con a Sonitis e non essere cacciato via e questa scommessa effettivamente la vinse eh perché lui il film lo ha finito e il film è una cagata amicidiale nel senso ma forse è il film più odiato da da Ruggero la scendiatura è poca cosa eh tra l'altro eh non si trovò per niente bene con Manso Keefe ehm e poi vabbè Ruggero era anche uno come dire molto ehm insomma si ingarellava spesso con gli attori ehm c'era sentiva molto la concorrenza diciamo virile con gli attori eh non so se questo insomma che nel caso di Manso Keefe ci fu questa dinamica però sicuramente non si trovò bene con O'Keefe che definiva traduco eh il pensiero di Ruggero lo definiva una sorta di eh moscione cripto gay eh che che non sapeva recitare e lui portò nel film John Steiner con cui aveva già stabilito un rapporto già all'epoca di D'Empiacere e praticamente dice almeno da un punto di vista recitativo eh fu John Steiner a salvare il film eh ma anche lo stesso assonitis ehm insomma lo definiva lo ha sempre definito poca cosa nella sua filmografia quel sia questo che Aaron Warrior insomma film minori quasi più per andare ad apparare delle pratiche amministrative che era una cosa che si faceva molto eh all'epoca ehm diciamo l'esubero di fine anno lo si usava per finanziare dei film e andare a diciamo a trovare una quadra ehm amministrativa finanziaria insomma quindi non sono film che nascono quasi più per esigenze amministrative che per ragioni diciamo artistiche. Senti Vortice Mortale è un film molto sfortunato eh eh questo lo posso raccontare è un film che io sto ho cercato per molto tempo eh ho cercato il master il master i negativi originali non si trovano eh anche la del discorso dei diritti è molto molto ingarbugliato ehm un film che non uscì in Italia eh è un film secondo me penalizzato da un titolo inglese sbagliatissimo The Washing Machine la lavatrice ehm anche Vortice Mortale il titolo italiano che poi vabbè è servito a poco perché il film non è mai uscito nelle sale italiane eh Vortice Mortale non è che sia un gran titolo è un peccato che questo film sia insomma stato così dimenticato perché ha una bellissima fotografia di Sergio D'Offizzi ehm non ha non ha attori di richiamo eh anche questo probabilmente ha penalizzato il film oltre al fatto che siamo già nei primi anni novanta quindi insomma i connotati dell'industria cinematografica italiana erano molto cambiati però eh il fatto che non ci fossero degli attori ehm forti insomma dei nomi utilizzabili sicuramente eh sicuramente non ha aiutato eh non credo che uscirà in in Blu-ray è uscito in DVD eh della Shangless britannica però un'edizione molto scrausa eh dove hanno usato un telecinema un vecchio telecinema insomma eh poi hanno anche preso delle parti da un VHS insomma è un prodotto Frankenstein eh però il Blu-ray forse è quindi DVD pure pure ma in Blu-ray dubito che si trovi ehm che ci siano per il momento i materiali utilizzabili ehm però insomma è un film interessante sicuramente del diciamo di quel periodo a cavallo tra gli anni ottanta e novanta è uno dei titoli più interessanti sicuramente più interessanti di Minaccia d'amore che tutto sommato è poca cosa. Ehm E Eugenio dato che siamo un po' alla fine almeno per quanto riguarda l'argomento Deodato perché ora passeremo al long video un accenno così un tuo parere in merito al suo ultimo lungometraggio che è Ballad in Blood che ha girato nel duemila e sedici. Ballad in Blood allora è brutto per me è brutto eh è un film ma io diciamo che io ehm ma allora è recitato male ehm gli attori non funzionano ehm la la trama è un po' scalcinata ehm e poi un film che nasce senza mercato tutto sommato cioè molti di questi film di di questi questi come dire vecchi vecchi registri che ritornano che si rimettono in discussione eh spesso sono prodotti mh sono sono film autoprodotti o comunque da piccoli produttori ehm e non sono richiesti dal mercato in realtà non nascono da una richiesta specifica eh e questo un po' si sente cioè sono prodotti fluttuanti che non 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 di difficile collocazione quello che posso dire però è che il film di Deodato è un film cioè non è un film compiuto è un film grammaticalmente corretto è un film è un film eh se uno guarda tanti prodotti che nascono da ambienti simili a Balladin Blood da da realtà produttive analoghe si fa fatica proprio a considerarli dei film sono talmente pieni di sbavature sono talmente poveri eh che che si chiama ai limiti dell'amatoriale a prescindere poi dal potenziale del regista in questione nel caso di Ruggero del suo Balladin Blood è un film è un film è sicuramente tra i tanti registi della sua generazione che sono tornati alla regia è uno dei prodotti migliori eh cioè lui ha realizzato uno dei prodotti migliori all'interno di quel di quella finestra però ecco ed è una schifezza diciamo come come hai detto tu figure degli altri eh sì è è brutto è brutto è brutto poi per carità è uno no tende a a come dire avere un occhio un occhio più tenero perché comunque si tratta di Ruggero Deodato perché comunque fa sempre piacere vedere quel nome nei titoli di testa eh a questo punto cioè nel senso anche lo spirito critico viene un po' a mancare no? Eh lo si guarda più con gli occhi della nostalgia un prodotto del genere no? Eh che che con un occhio diciamo più severo più più critico eh però insomma sì stiamo parlando di un di un di una piccola cosa di una piccola cosa niente allora io direi di eh terminare qui per quanto riguarda l'argomento su Deodato e adesso magari per per il prossimo quarto d'ora potremo parlare delle prossime uscite o dei progetti che ci sono di cui ci puoi parlare sempre per quanto riguarda il mercato import eh con audio italiano o ma c'è anche qualche eccezione purtroppo perché non sempre tutti i titoli di film italiani escono con l'audio italiano ehm sappiamo di cani balolo caos 4k che purtroppo pensavamo ci fosse la traccia italiana poi non c'è non c'è stato per i motivi di cui Eugenio ci ha già parlato per gli eventi diritto eccetera ehm quindi niente do a te la parola e vediamo un po' quali sono i progetti allora dunque dunque eh da dove iniziare? È un periodo bello bello fervido ehm gravido di progetti uscite quindi da dove iniziamo? Beh allora facciamo un attimo il punto della situazione la 88 films sta per sguinzagliare un tutto un una cascata di di titoli eh a breve usciranno la cassa sperduta nel parco tentacoli sopravvissuti a città morta le notti del terrore zombie holocaust virus l'inferno ai morti viventi la frusta il corpo eh quindi insomma veramente tanti titoli quello che posso dire senza rivelare il titolo posso dire che eh per la 88 films sto realizzando i contenuti speciali di due titoli molto interessanti uno celebre l'altro decisamente meno celebre ehm uno diretto da Lamberto Bava e l'altro non lo posso dire ehm quello meno quello meno celebre e uno uno di questi due anzi lo posso pure dire quello di Bava eh di Lamberto Bava eh non Mario uscirà in 4k quindi sicuro cento per cento quindi ecco questo posso dirlo poi per la non posso chiederti soltanto se è un titolo che è già uscito in blu-ray per la 88 o ed è proprio la prima distribuzione da parte della 88 eh sto pensando allora se è uscito per la 88 eh non ne sono consapevole perché sicuramente perché la 88 non nasce con me ovviamente ehm io non 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 sono consapevole di tutti i titoli usciti prima che io iniziassi la collaborazione con con l'IDA eh so che hanno fatto uscire per svariate cose eh per cui non lo so magari è uscito però in blu-ray all'estero questo vuol dircelo? Sì 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 in blu-ray è uscito ok sì 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 quello sì ehm poi poi per la Nolis Entertainment a dicembre eh la Nolis tedesca ha annunciato l'uscita di ehm l'ultimo squalo di Castellari eh di eh oddio vuoto totale Patrick vive ancora mh e basta ha annunciato questi due sono blu-ray non 4k però posso dire che il master dell'ultimo squalo è veramente ottimo e e ho realizzato i contenuti speciali di entrambi entrambe le release entrambi le uscite eh le edizioni pardon ehm e allora posso dire anzi che l'ultimo squalo uscirà doveva uscire inizialmente a marzo eh mi pare febbraio marzo eh invece adesso uscirà eh all'inizio dell'estate ah ok è slittato in avanti eh però ci sarà un annuncio ufficiale la prossima settimana eh poi sto lavorando a un pacchettino di titoli per la Coldren eh un altro pacchettino per anzi un pacchettone per la oddio per l'indicator per l'indicator e posso dire questo che gli amanti diciamo del sottobosco del cinema italiano degli anni settanta hanno molto di cui hanno molto da festeggiare perché usciranno film veramente eh non scontati che addirittura non sono mai usciti neanche in dvd figuriamoci in blu-ray addirittura ehm sì parecchi questo questo grazie al mercato americano o quello inglese tutte e due tutte e due soprattutto inglese soprattutto britannico ma anche americano e poi invece per quanto riguarda la tornando un attimo alla Germania ehm posso dire eh che intorno a intorno a sempre per la Nolis intorno a settembre eh dovrebbe uscire ehm un film americano horror del primi anni novanta eh molto interessante lì abbiamo proprio riempito riempito l'edizione di contenuti speciali eh e uscirà per la prima volta in blu-ray quindi sì devo dire è un momento molto molto fervido ehm adesso uscirà è stato annunciato credo sia in preorder eh uscirà anche la residenzia eh di Narciso eh i Serrador eh gli orrori del liceo femminile ehm per la rom film molto molto interessante di un regista molto valido eh io aspetto un po' il film sui bambini vabbè è quello ma guarda secondo me la potrebbe fare qualcosa con quel titolo eh può essere che stia aspettando per vedere come come vada questo come quanto venderà questo titolo qui la residenzia eh che ha un titolo terribile in inglese oddio gli orrori del liceo femminile fa abbastanza orrore però più che altro è molto forbiante come titolo però anche quello inglese per ragioni diverse altrettanto moscio ehm che è The House That Screamed la la casa che che urlò che ci azzecca un cazzo col film però vabbè ehm però sì è il quello è un bel titolo il master è ottimo eh io lì ho partecipato diciamo marginalmente mi sono occupato di un fissuretto eh un fissuretto con protagonista Juante Bar e ho fa ho organizzato io quel quel quell'intervista e e poi e poi ah posso dire ecco posso dire questo eh sarà l'anno questo ma non posso dire altro però sarà l'anno di Polselli di Renato Polselli ah caspita quindi non possiamo dire però chiaramente quale è il titolo eh ah viene chiesto se hai lavorato sull'edizione di The Big Countdown per la Indicator no non ho lavorato su quello eh il mio la mia collaborazione con la Indicator nasce subito dopo quel titolo io è da metà dell'anno sì a metà del duemila e ventidue che ho iniziato e sono in varie fasi di lavorazione eh per sette titoli ok c'è già chi sta eh ipotizzando qualche titolo tra cui non posso rivelare di più non possiamo dire nulla ah comunque vorrei approfittarne ehm nelle prossime settimane farò alcuni unboxing review di titoli a cui Eugenio ha lavorato che sono usciti in commercio in questi ultimi mesi oltre a Cannibal Holocaust 4k anche ehm Blood Diamond eh diamanti sporchi di sangue e un poliziotto scomodo che adesso non mi viene in mente chi è che l'ha distribuito un poliziotto scomodo Eugenio? Coldren. La Coldren quindi prodotto americano quindi mi raccomando seguite sempre il canale perché poi spalmerò questi unboxing review durante la settimana. Prego. Eh no fammi tu una domanda stupiscimi. Eh niente allora tu comunque parlare che questo duemila e ventitré sarà ricco di edizioni tra cui anche molte eh perle poco conosciute degli anni settanta. Eh per quanto riguarda invece gli anni ottanta come siamo messi? Bene molto bene eh posso dire che eh sto la anzi ho finito di lavorare ho consegnato ehm contratto l'appalto chiuso eh ho lavorato con un film di Ruggero Deodato. Ah. Gli anni ottanta. Ok. Ok. Potrebbe essere camping del terrore? No. Non penso no? Ma non posso rivelare nulla. Non possiamo dire nulla. Ok. Eh più o meno quanti titoli a quanti titoli hai lavorato per il duemila e ventitré? Cioè prodotti che usciranno per il duemila e ventitré? Eh allora eh è sempre difficile perché tu li tu realizzi realizzi gli extra ti occupi dell'edizione eh fai un sacco di cose e poi ci sono slittamenti cioè io addirittura ci sono dei film eh su cui ho lavorato nel duemila e ventuno che non sono ancora usciti ehm per cui infatti io ci sono magari non esce nulla eh nonostante io stia lavorando tantissimo non esce nulla per eh magari due mesi non non esce un'edizione su cui ho lavorato poi in una settimana vengono annunciati otto titoli c'è un'esclusione proprio perché poi si accavallano capito delle cose eh vengono annunciate quando te lo aspetti però poi all'improvviso spuntano come funghi i titoli su cui hai lavorato due anni prima per cui è sempre così è una sorpresa io ho lavorato allora in teoria cose fatte io parlo di cose finite consegnate all'etichetta eh il mio lavoro terminato per il duemila e ventitré trenta titoli quindi a voglia quindi comunque il genere italiano funziona c'è all'estero sono titoli che no anzi anzi ehm più che mai adesso appunto anche etichette che non insomma che non hanno mai dimostrato un grande interesse per il cinema visto italiano adesso stanno tornando sui loro passi l'indicator ehm prima di la resa dei conti e forse c'era qualche altro titolo si occupava di tutt'altro eh e adesso invece ha messo in cantiere sette film italiani eh ma la Fractured Vision che ultimamente non sta facendo uscire nulla più di di polizieschi italiani la Fractured Vision era quella l'etichetta? Ah sì la la Fractured Vision la Fractured Vision no ehm adesso uscirà io ho partecipato ma credo di essere tra i ringraziamenti insomma la mia partecipazione è stata molto marginale ho partecipato a Doberman il film con Vincent Cassel e Monica Bellucci eh film molto strano con C'è chi cariò pure eh quello uscirà a breve per la Fractured Vision ehm credo eh se non è già in preorder ci entrerà a breve e poi per la Fractured Vision in realtà io sto lavorando però molto lentamente ad alcuni contenuti speciali per un titolo che però si trova in garbugliato in questioni burocratiche legate ai diritti quindi è un titolo non è un film italiano però è un bel titolo eh che in teoria dovrebbe uscire in 4k però ci sono dei problemi ci sono dei problemi e non non so quando uscirà eh la casa dell'orco sì la casa dell'orco sì allora tutto il il ciclo dei di Bava di Lamberto di Brivido Giallo eh allora che io sappia non 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 c'è nulla in cantiere ma è solo una questione di tempo quello che posso dire è che io sto lavorando a un film di Lamberto Bava eh so che un'altra etichetta mi dovrebbe contattare a breve per un altro film di Lamberto ehm sempre un'etichetta britannica ehm però so di un'altra etichetta ancora americana che sta lavorando un terzo film della 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 legata a Bava per cui ehm cioè diciamo che Bava sta venendo riscoperto in in Blu-ray ehm quindi sì potrebbe secondo me potrebbe uscire un bel cofanetto e in merito al cofanetto che è appena uscito in commercio uscirà tra poche settimane di Umberto Lenzi viene chiesto se hai lavorato a qualche extra no no eh non ho lavorato a qualche extra eh il potrei esserci finito dentro eh perché io ho realizzato contenuti speciali per il cinico l'infame e il violento per la E.T.A.T. il successo di la pre E.T.A.T. tanti anni fa eh più recentemente ho realizzato parecchi contenuti per il trucido sbirro della Fractured Visions eh eh sì è il trucido sbirro eh quindi potrei esserci finito dentro perché ogni tanto mi ritrovo eh ritrovo i miei contenuti all'interno di edizioni su cui non ho ufficialmente lavorato eh perché leggendo comunque leggendo comunque l'elenco dei contenuti speciali leggo molte interviste a Umberto Lenzi quindi di solito sono quasi sempre interviste tue quindi non potrebbe essere potrebbe essere non ho chiesto né la E.T.A.T. né a Fractured Vision se sono state vendute interviste ehm quindi non lo so non lo so no io ho lavorato ma io con la Severin è una delle poche tutto sommato poche etichette con cui ho una collaborazione estremamente sporadica ho ho lavorato in vari e con vari ruoli come consulente o eh come produttore di alcuni contenuti speciali su cinque titoli sei titoli il miele del diavolo eh un angelo per satana eh eh il boia scarlatto ehm la bestia in calore di Bazzella insomma ma pochi pochi non non sono io che mi ho non sono il referente numero uno per la Severin io. Certo certo. Si viene chiesto per qualche commento audio in più con registratorio anche se è una cosa che in Italia si usa poco le edizioni italiane più che altro si usa no? E le edizioni estere Eugenio ne ha fatte diverse le troviamo nelle varie edizioni o un video appunto uscito all'estero. Sì allora commenti audio allora il problema numero uno dei commenti audio eh per i cioè quando si tratta di etichette estere è il discorso linguistico cioè la barriera linguistica perché ehm si possono fare però poi questo comporta il sottotitolaggio di tutto il commento audio e fare i sottotitoli per un'etichetta dei costi eh cioè diciamo che un uno che si occupa dei sottotitoli può prendere all'estero tra le cento e centocinquanta dollari un quarto d'ora per cui su un film di un'ora e quaranta o un'ora e trenta o anche due ore insomma è una è una spesa e poi ci vuole molto tempo per farli e quindi preferiscono dare precedenza ai commenti audio di critici storici e biografi e così via per cui eh io ho realizzato ho moderato un commento audio ehm con un con un personaggio ehm eh per conto della grindhouse releasing americana eh quindi non posso dire chi è perché se dico chi è poi rischio di rivelare il titolo e poi Bob Murawski eh mi cerca per tetti quindi non non posso rivelare nulla però però sì ci sarà un commento audio però sono sono molto pochi sono pochi per un'ora di tempi leggendo leggendo appunto l'elenco degli extra di questo cofanetto della Severin su Lenzi non ricordo qual è il film però c'è un commento audio di Ernesto Castaldi ora mi viene il dubbio se Ernesto Castaldi parla bene l'inglese altrimenti sarà un commento in italiano ora non so credo proprio guarda io Ernesto l'ho intervistato sbariate volte e non gli ho mai chiesto eh o se gliel'ho chiesto non me lo ricordo eh se parla inglese però francamente dubito lo parli abbastanza bene da poter sostenere un un commento audio sinceramente per cui credo eh abbiano sottitolato ah bene a meno dai interessante e niente Eugenio hai ancora qualcosa da dire in merito alle prossime uscite altrimenti siamo diciamo nella conclusione di questa live ho qualcosa da dire eh ho qualcosa da dire ah posso dire questo che qualcuno nei commenti ha menzionato eh il cofanetto annunciato della Severin dedicato ai eh al al ciclo dell'Emanuele Emanuele eccolo qua Fabrizio esatto quello che posso dire è che anche qui non ho lavorato su cioè non sto lavorando non mi è stato chiesto almeno per il momento di lavorare su questo cofanetto eh forse ci capiterò dentro come nel caso del cofanetto dedicato al poliziesco di Emilia Nellenzi però eh sono stato recentemente contattato da un'etichetta proprio tre quattro giorni fa da un'etichetta tedesca che farà uscire un cofanetto con tre titoli legati al ciclo dell'Emanuele ok ok quindi la Severin ha una concorrenza diretta ok ok quindi non possiamo dire qual è l'etichetta comunque speriamo duemilaventitré bene ok io voglio ringraziare Eugenio come sempre per essere stato qui con me per parlare di Eugenio Deodato come sempre e poi ringrazio tutti perché siete stati molti sia a visionare questa live ma anche a partecipare con domande e osservazioni anzi mi scuso se non ho potuto mostrare tutti i commenti e rispondere a tutte le domande e far rispondere domande a Eugenio io e Eugenio ci troveremo sicuramente presumo il mese prossimo per un'altra un'altra live decideremo poi quale sarà l'argomento sperando che non ci saranno altre perdite di non fare un'altra live commemorativa magari useremo appunto bene Eugenio ti ringrazio ancora e niente grazie io spero di aver di essere riuscito a mettere insieme un discorso di senso compiuto ma sono esausto infatti non so cioè io sono stato tutto il tempo così con la moca perché ho dormito tre ore tre ore stanotte e ho fatto tardi lavorando scrivendo ok ok per cui quindi sono un po' fuori fase quindi chiedo scusa se sono stato un po' come dire sì moca da due è una moca da due questa sì sì sto messo così proprio vado avanti a dosi massicci di caffeina caspita vabbè comunque l'ha fatto per per tutti noi per per lavoro quindi eh ti ringraziamo ehm grazie ancora per l'invito e grazie per chiunque insomma sia stato qui ad ascoltarci grazie ancora va bene ciao a tutti grazie per chiunque insomma sia stato un po' come grazie per chiunque insomma sia stato un po' come grazie per chiunque insomma sia stato un po' come grazie per chiunque insomma sia stato un po' come grazie per chiunque insomma sia stato un po' come